Con il numero 114 Erika Pezzi e Fabio Gambi Con il numero 125 Monica Conti e Matteo Giovanardi Il numero 288 Valentina Squadrani e Filippo D'Angoli Bene allora per i signori giudici la topa numero 288 è da depennare Finale a tre coppie Primo ballo di finale Grazie 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 Alle coppie per il vostro balze